Sarò molto breve, innanzitutto buongiorno a tutti, saluto l'assessore Bacega che è qui con noi presente, soprattutto i dirigenti funzionari della regione, i colleghi sindaci e i numerosi liberi professionisti che sono qui in sala presente. Questa iniziativa è stata voluta dal Consorzio degli Enti Locali a Valle d'Aosta, coinvolgendo tutti i 74 comuni, perché da tempo come enti locali ci troviamo ad affrontare la problematica dell'innovazione tecnologica, dell'innovazione progettuale sui nostri territori. E spesso e volentieri voi professionisti arrivate presso i nostri uffici tecnici a chiedere informazione sulla possibilità o meno di applicare certe tipologie costruttive, certe forme. E spesso e volentieri le amministrazioni si trovano in grossa difficoltà. Si trovano in grossa difficoltà perché gli impianti normativi spesso sono articolati, non riusciamo a dare immediate risposte. E credo che questo sia un grosso problema e come Consorzio degli Enti Locali abbiamo voluto iniziare un dibattito all'interno nostro per comprendere come permettere di raggiungere degli obiettivi qualitativi e non più solo quantitativi nello sviluppo e nella rivalutazione del territorio valdostano. Chiaro e indubbio che gli aspetti dell'evoluzione tecnologica dei materiali, dell'evoluzione delle forme nell'architettura e come ha detto prima il collega architetto, la contemporaneità degli interventi edilizi sul territorio diventa un elemento assolutamente imprescindibile anche qui da noi in Valle d'Aosta con un territorio estremamente articolato e particolare. È chiaro e indubbio che credo che questo momento di dialogo sia molto importante anche perché credo che negli ultimi anni gli enti locali abbiano iniziato un dialogo assolutamente costruttivo con gli ordini e collegi della Valle d'Aosta. Generalmente gli interessi degli enti locali o del legislatore sono di un certo tipo gli interessi degli ordini del collegio a Valle d'Aosta in generale sono di un altro tipo però si è instaurato un rapporto ottimo soprattutto negli ultimi anni che ha portato anche al raggiungimento credo anche di buone procedure amministrative e buone anche leggi grazie anche a, come si può dire, all'intervento dei dirigenti funzionali della Regione. È chiaro e indubbio che da questo momento in poi bisogna migliorarsi, bisogna capire come riuscire a far crescere la qualità del costruito in Valle d'Aosta. Credo che sia fondamentale, e questo lo dico a noi amministratori, fondamentale rimettere al centro anche della nostra programmazione il progetto, quindi la valenza intellettuale dell'atto progettuale, perché purtroppo credo che in passato questo sia venuto sempre meno. È chiaro e indubbio che questo è un percorso difficile, complicato e questa giornata di riflessione, che deve essere innanzitutto riflessione per noi amministratori, attraverso l'ausilio dei relatori che ci porteranno degli esempi, credo decisamente interessanti, deve permetterci anche di fare un ragionamento, un approfondimento anche culturale. Cioè credo che anche qui in Valle un ragionamento su cosa vale la pena mantenere o non mantenere. Sul concetto di ruderizzazione credo che sia ormai arrivato il momento di analizzarlo in maniera puntuale. Credo anche che il ruolo nei prossimi anni, per quanto riguarda noi antilocali, sia sicuramente di attenzione all'utilizzo del territorio, per evitare che questo sia continuamente, tra virgolette, e mangiato. Però questo necessita comunque un'attenzione all'evoluzione dell'attività progettuale per quanto riguarda voi liberi professionisti, della capacità di noi amministratori di cogliere le innovazioni e le evoluzioni filologiche e allo stesso tempo anche normative. E qui credo che l'impegno, amministrazione, ordine, collegi e legislatore diventa fondamentale nell'ottica di una sinergia che ci deve portare, mi auguro veramente nel giro di un paio di anni, anche a un aggiornamento normativo delle nostre disposizioni di legge che tra l'altro in Valle d'Aosta ci permettono di avere competenza primaria su determinati settori e questo non è da poco rispetto a quello che è il contesto nazionale. Vi auguro un buon lavoro e prego. Grazie Presidente De Celva.